Welcome back da MaxBlack, siamo su Fortnite. Oggi vi ringrazio per tutti i mi piace, le iscrizioni che ci sono state questa settimana. Cominciamo bene. Io come al solito cercherò di lanciarmi in un posto isolato per cominciare a luttare bello tranquillo e poi giocarmela alla fine con i più forti, anche se non credo che sia una cosa molto buona, però ci provo. Quindi ci vedremo, diciamo, quando atterro per terra. A dopo. Eccoci signori, siamo arrivati per terra, vediamo cosa troviamo, cominciamo a luttare come delle bestie. Benissimo, ottimo fucile. Già sento che c'è qualcuno, sicuro. Vedo degli oggetti qui, ok. Abbiamo trovato un bel cacchiere. Ottimo, 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 molto bene, prendi tutto, prendi tutto. Molto bene. Ok, e possiamo dire che comunque prendendo quell'arma ce ne possiamo cominciare ad andare, ad tentare di aspettare da qualche parte. Ok, vai vai. Scappiamo, scappiamo. Ma vabbè, siamo in piena safe. Vediamo se riusciamo a trovare un punto dove poterci nascondere. Magari un bel cespuglione. Cerchiamo il cespuglione. Non sento nessuno. Muoviamoci. Cerco di non passare mai dal centro della mappa. Munition. Ok, nascondiamoci in questo cespuglio e vediamo se riusciamo a derubare qualcuno. Comunque è stato un buon loot iniziale. Ragazzi, non trovo proprio nessuno. Non so perché. Incredibile. Non si vede nessuno. Però stanno morendo come le mosche. Sono andato in brutta posizione, però meglio così forse. Proviamo a metterci in quest'altro cespuglio e aspettiamo. Siamo in 30. Questa sembra una zona abbastanza abbattuta. Ecco signori, vedo un tizio. Sto per fare un megaguato a quel tizio. Ecco, ecco. Meccati questo. Ottimo agguato. Ce l'ho fatta. Rubiamogli tutto. Un bel po' di cose. Grande. Basta torno a nascondermi e a rifare l'agguato. Presto, presto, presto. Avevamo lo scar epico pure. Ci è piaciuto. Ci è piaciuto questa agguata. Avete visto? Vediamo se lo riesco a beccare. L'ho beccato, aveva un po' di scudo. L'ho beccato, però l'ho preso sulla testa. Qui c'è gente che costruisce. Ecco, guardate che altro tizio. L'ho beccato qua. Preso, preso. L'ho ucciso. L'ho ucciso. Incredibile. La distanza abissale. Però credo che ci avrà sentito tutto il mondo. Ecco, ne vedo un altro, signori. Eccolo là. Beccato, beccato. Incredibile, signori. Questa posizione è bellissima. Muoviamoci. Cerchiamo una nuova posizione sempre elevata. Però temo che quello è là col... Cosa mi sta aspettando? C'è un tizio lì appostato sul ponte. Cerchiamo di andarci di qua con molta cautela. Muoviamoci piano. Non abbiamo fretta. Cerchiamo di muoverci più silenziosamente possibile. Devo cercare di entrare in safe. Ecco, lì ho trovato un altro riparo. Speriamo che non ci hanno visto. Mi muovo, vado a vedere quella zona cosa c'è. E poi... Oddio, c'è uno. Oh mamma mia, sta costruendo l'impossibile. Cerchiamo di aggirarlo. Si sta costruendo una mega... La barriera è gigantesca. Noi ci andiamo, tanto sta crepando. Lo pusciamo. No, no, no. Da dietro sono arrivato settimo. Peccato, mi ha girato lui. Mi raccomando, mettete un mi piace, bastardone. L'avevo visto. Oh, anche lui ha la tecnica del tescuglio. Però tanto ho beccato. Ben ti sta. Così ci impari. Mi raccomando, signori. Condividete il video. Mettete un mi piace. Iscrivetevi al canale. È stata una bellissima run. Ci vediamo prossimamente.